Siamo circondati Mamma mia Ce l'abbiamo davanti Morto Aggiornamento Non mi servono di medici Ok, lo trovate Lo zaino Ok, granate Ce l'abbiamo sotto, lo ce l'abbiamo sotto, è quello che Mi ha acceso a me Eccolo, lo vedo Lo vedo, lo vedo, lo vedo, sta correndo Dove, 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 dimmi dove Nelle praterie, non so, qua davanti, davanti a me Eh, dimmi il numero Mi ha rotto l'armatura, ho sentito proprio il crack Lo vedo, lo vedo, lo vedo Dietro quell'albero sta Sì, sì, quello gigante Sì, infatti è un po' un problema Non ti mette dove sto io però Non lo pusha Lo so Morto dai, andiamocelo, andiamocelo Ce la facciamo in tempo a luttarli, sì dai Facciamo un salto a vedere che ce l'hanno Quanto sono due zaini vicini in teoria Se provi dei kit medici, dimmelo che io ce n'ho solo uno Eh, lo te li do io adesso, ce n'ho dieci Mo te li do tutti appena ci fermiamo Allora, questo c'è il CR7, me lo prendo C'ho una valanga di perk buoni Dai andiamo No, ho cambiato arma, lui, ho cambiato arma, ho cambiato arma Ok, andiamoci Mo ti do tutti i kit medici, così ce n'hai 15 e prendi la cosa Guarda, metto il punto qui Andiamo diretti Ok, mo c'ho armi seri No, l'anserotto non c'ho munizioni Tu c'hai munizioni del 338? Eh, lui viene qua, ha detto tutto, aspetta Dobbiamo... Però, non dica adesso Probabile, sì, non posso guardar Non so Sicuramente ce l'ho, raccolgo tutto, quindi Ok, stanno su due casette, entriamo dentro Sto arrivando, sto arrivando Adesso Corazzo, ok Entra, entra in questa, entra in questa Dai, entra, chiudi Allora, muterò i kit medici Non mi dico Attenzione, previsto ulteriore collasso Trasferiti nella zona sicura Questi E questi 10, così fai il trofeo, la, fai quella roba, la Grazie Poi 338 338, vai E basta Prendi tutto C'è gente a fianco, però Non usciamo adesso Metto un attimo silenzio le tomba Usali tutti Usali tutti Usali tutti, così te si cancella Aspettiamo un po' e poi andiamo qua Al benzinaio Vai, esci Passiamo per destra A sinistra c'abbiamo gente Qui a destra è possibile ci sia qualcuno in queste ville Entriamo dentro un'altra No, andiamo al benzinaio Benzinaio qua sotto Gente qua sotto C'è uno qua sotto che sta entrando al benzinaio Morto Mi sa che una barricata non la posso, posso metterne solo una Quindi metto filo spinato e barricata Mi rifugio un attimo in bagno, ne stanno granate, buono, curo Faccio un po' di tutto qua, mi resti in nove C'abbiamo gente sicuro davanti Buono, buono, buono Luan, ha aperto la porta o sei uscito tu? Morto, l'ho ammazzato, l'ho ammazzato Luan, c'è una porta aperta qua dietro Lo so, lo so, perché è entrato uno Ci ha lanciato la grande e poi è uscito L'ho uscito io e l'ho ammazzato Ok, perfetto Ma è morto del tutto? Vado a controllare Come vado a controllare? L'hai visto? Sì, è morto del tutto È morto del tutto Ok, allora vado ad attimo a prendere Gli oggetti da quelli che ho ammazzato qua Che mi serve se hanno un kit antitraumi o qualcosa Kit antitraumi, kit medico, kit medico Via, 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 Lu, via, via, andiamo al safe Sicuro c'è gente qua C'è un cazzo qui dentro Ok Lu, stiamoci un po' qua Siamo rimasti in 5 Ok, la safe è nostra La safe è nostra Mettiamoci dietro a st'albero gigante O forse no, un po' più su Mi sa Un po' più su, sì Ok, c'ho pure M che vengono da destra Metto la barricata qua Bravissimo Lu, c'è il più avuto davanti che ci saltella come un capretto Dietro l'albero E scendiamo giù, scendiamo giù Qui li stanno facendo il giro Li vedo, li vedo Li ho visti pure io Li ho visti, stanno qua dietro Li sto pushare Ne è morto uno, ne è morto uno Li sto pushare Ma hai tirato una granata a me, non so se te ne sei reso conto Morto Uaaaaaah Uaaaaah Che partitone Che partitone Perché non mi basta buglip? Eh ci mette un po' perché sta caricando Aspetta